Tante come il racconto che invita al viaggio della commedia anche i lettori più giovani, nel rispetto di un testo vivo, di un sistema di pensiero, di valori, di quella che giustamente è stata definita probabilmente la prima opera mondo dell'Occidente. È la sfida che Arianna Punzi, docente di filologia romanza La Sapienza di Roma, ha raccolto in questa sua versione per ragazzi del poema dantesco, accompagnata dalle illustrazioni di Desideria Guicciardini. Ho cercato di seguire il testo, di non stravolgerlo, di non banalizzarlo, di non scignottare il linguaggio bambinesco, diciamo così, e di tenere anche un livello un pochino alto, perché secondo me poi Dante è sempre una sfida anche per un lettore giovane e quindi mi sembrava bello che leggesse il testo, seguisse la storia fondamentalmente, ma senza trovarsi la storiella così raccontata, quindi mantenendo anche un po' la ricchezza del lessico, qualche sfumatura descrittiva e quindi anche qualche termine forse non familiare. La grande sfida, come si diceva, è quella dei valori che innervano la commedia, il gigantesco e variegato castello di simboli e credenze che è costitutivo della grandezza immensa della Ligieri. Per quanto Dante naturalmente rilegga all'interno della sua visione del mondo e anche della sua visione della storia della salvezza evidentemente, però sono dei valori che dei ragazzi possono perfettamente capire, penso al valore della libertà che è al centro della commedia, al centro anche geometrico, è proprio al centro, quindi la questione proprio della libertà, della libertà del discernimento, del libero arbitrio, che è un grande tema da proporre, il tema della responsabilità, perché in qualche modo se c'è un al di là e Dante ha pensato questo al di là, ha fissato in qualche modo quello che si è stati in vita, quindi ognuno sceglie cosa fare, da che parte stare e così via. Il tema della dignità umana che è molto forte in Dante. Noi a volte lo dimentichiamo, però la commedia è anche molto teatralizzata, noi vediamo proprio personaggi che interagiscono. È teatrale perché viaggia, cammina, ma in questo cammino incontra, incontra personaggi di tutti i tipi, nelle situazioni più varie, si alternano voci molto diverse, con lingue diverse, con modalità anche espressive diverse. Da questo punto di vista io ho lasciato, anzi ho puntato sui dialoghi e sugli incontri, perché credo che siano la cifra proprio narrativa della commedia, quello che fa la storia, quello che fa anche il viaggio, anche da un punto di vista proprio di viaggio di formazione, di crescita poi del personaggio che si muove sulla scena.